buonasera ciao a tutti ci rivediamo in diretta facebook dopo qualche giorno qualche sera in cui non mi ero collegato ma purtroppo tutto dipende sempre dall'orario di rientro a casa la sera per cui nelle serate precedenti non ero riuscito a rientrare un'ora ragionevole da torino questa sera sono riuscito a tornare pochi poche decine di minuti fa e questo mi ha permesso e mi permette di collegarmi per aggiornarvi su quella che è l'evoluzione della del coronavirus della situazione dei contagi nella nostra regione le iniziative che abbiamo assunto che stiamo assumendo e darvi anche qualche notizia in più in merito a quelle che sono le ultime news del presidente del consiglio conte in materia di misure di contenimento allora io partirei proprio dal concetto delle misure di contenimento che sono poi il tema che io seguo poi direttamente come come presidente della regione le misure contenimento sono le misure alla quale alle quali noi ci siamo sottoposti per bloccare il contagio attraverso il blocco dei contatti tra le persone sono misure di contenimento che ha assunto lo stato che hanno assunto le regioni noi in piemonte abbiamo sempre o anticipato le misure di contenimento che poi prevedeva il governo oppure abbiamo irrigidito le stesse la prova è che attualmente noi abbiamo un decreto del presidente del consiglio che ci pone tutta una serie di limitazioni poi io ritenuto nella nostra regione fare un passo in più e andare a chiudere come ben sapete gli studi professionali a fermare i cantieri a mettere le regole per fare la spesa uno per volta a evitare gli assembramenti per più di due persone c'è tutta una serie di disposizioni più restrittive rispetto a quello che era il quadro nazionale ebbene queste scadevano tutte il 3 di aprile allora il presidente del consiglio ha prorogato e lo ha annunciato questa sera ha prorogato tutte le misure di contenimento dello stato dal 3 aprile al 13 aprile quindi si scavalla la pasqua il 13 aprile il giorno immediatamente dopo pasquetta e il 13 aprile è la data in cui secondo il questo decreto del presidente del consiglio la data di scadenza delle attuali misure io domani farò la mia nuova ordinanza che a sua volta proroga fino al 13 aprile queste misure io vi dico le misure aggiuntive della nostra regione rispetto a quelle dello stato per cui per essere più chiari la situazione non cambia per quanto concerne i vincoli di vieti i limiti che noi abbiamo in piemonte non cambierà almeno fino al 13 aprile io avrei proposto il 20 vi dico la verità che in questi giorni in cui ci sono stati dei confronti io sempre proposto il 20 di aprile data che ritenevo ancora un po prematura ma vi dico il motivo il motivo è che noi non dobbiamo abbassare la guardia noi che iniziamo ad avere e ve li dirò i primi dati che ci danno dei segnali positivi veri non possiamo abbassare la guardia avete visto cosa sta succedendo a hong kong avete visto cosa sta succedendo in cina avete visto che adesso si parla del contagio di ritorno o del ritorno del contagio cioè il fatto che se si abbassa la guardia e si ritorna come si era prima non si è imparato niente e soprattutto si cade in una situazione che poi davvero diventa difficile da poter gestire già quella che stiamo vivendo è un incubo è una guerra ma se abbiamo dei segnali positivi e soprattutto se la ricetta che abbiamo adottato funziona continuiamo ad adottarla per cui per essere chiari i divieti degli spostamenti la chiusura delle attività è tutta prorogata fino al 13 di aprile e si aggiungono anche le limitazioni che io come presidente della regione ho adottato il piemonte che prorogherò domani fino al 13 di aprile come vi dicevo avrei e ho chiesto il 20 ma le prorogherò per il momento fino al 13 per non creare confusione quindi per riuscire a dare le informazioni più chiare possibile anche perché confusione se n'è creata per esempio ieri con questa circolare del ministero degli interni e una circolare del ministero degli interni quella che è sostanzialmente diceva che si potrebbe addirittura andare a fare la passeggiata col bambino la passeggiata con il nipote ecco credo che questo sia stato una circolare infelice da parte del del ministero io ho immediatamente comunicato che per quanto riguardava la nostra regione quella circolare non trovava applicazione noi come regioni siamo autorizzati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri conte ad irrigidire le misure se le riteniamo non troppo rigide non sufficientemente rigide per il nostro territorio e allora ho immediatamente comunicato che quella disposizione per il piemonte non valeva perché in piemonte le regole sono che si sta a casa e che se uno deve scendere sotto casa può scendere sotto casa soltanto ed esclusivamente se ha necessità di salute per cui ha bisogno di prendere l'aria di fare i tre passi ma si parla soprattutto per le persone anziane ma non è la passeggiata non è lo jogging non è l'attività motoria non è andare al parco non è niente di tutto ciò che purtroppo sembrava essere di nuovo autorizzato io sono convinto che queste non fossero le gli obiettivi della circolare la circolare aveva sicuramente un intento esplicativo però rischiava di aprire la possibilità cosa che io ho già visto oggi viaggiando da alba torino di fare la passeggiata nonno nipote che non va fatta e l'avvicinanza già nonno nipote è di per sé sbagliata perché noi dobbiamo stare in casa dobbiamo stare chiusi in casa e dobbiamo uscire di casa soltanto per ragioni di necessità di assoluta urgenza o di emergenza e questi sono le ragioni ragioni per cui la linea del contagio sta scendendo non ce ne sono altre la sanità sta facendo sforzi enormi in tutta italia io sono soddisfatto e li ringrazio ogni minuto e ogni ora della mia giornata perché la sanità piemontese sta curando tutti ricordo sempre i dati perché sono importanti la sanità piemontese da 287 posti letto di terapia intensiva oggi ne ha quasi 600 ogni giorno ne facciamo di nuovi il l'ospedale di verduno ha fatto per nottare i primi malati nella giornata di ieri sono in arrivo 21 medici della task force dei medici che sono stati selezionati a livello nazionale e riusciremo in questo modo ad ampliare anche l'offerta di verduno come ospedale covid di tutto il piemonte sono in corso ragionamenti sulle ogr sono approfondimenti tecnici molto importanti per fare anche ulteriori posti letti proprio i sopralluoghi di stamattina gli approfondimenti di oggi anche in rapporto di concerto con l'unità di crisi nazionale ci diranno poi di più in merito a questa opportunità che c'è che è importante e che naturalmente noi mettiamo sul tavolo nel desiderio della volontà di continuare ad aumentare la disponibilità dei posti letto di terapia intensiva cosa accade sulla linea del contagio la linea del contagio se la guardiamo in percentuale sta ogni giorno perdendo un punto in percentuale rispetto al giorno precedente quattro giorni fa anzi cinque dal 7 era aumentata del 7 31 il giorno dopo del 6 39 il giorno dopo del 4 23 poi aveva avuto una risalita al 6 quest'oggi aumenta del 5 circa quindi c'è una progressiva crescita ma inferiore rispetto al giorno precedente il tempo di raddoppio del numero dei contagiati in piemonte mi raccontava mi spiegava l'assessore alla sanità icardi questa sera è passato dai due giorni e mezzo quindi in due giorni e mezzo noi raddoppiavamo i nostri contagiati agli otto giorni di adesso e questo è l'obiettivo allungare il più possibile appiattire il più possibile questa curva per far sì che noi possiamo curare tutti e allora vi do il dato che mi conforta in questa giornata difficile dove piangiamo comunque 70 persone che ci hanno che ci hanno lasciato 60 70 decessi i morti in totale in piemonte sono 924 sono numeri che ci fanno rabbrividire che ieri ci hanno fatto anche vivere quel momento di silenzio ricordandoli ricordandoli tutti ebbene in questo momento così triste però il dato pensate che i posti di terapia intensiva occupati in piemonte ieri erano 458 oggi sono 456 è un dato importante vuol dire che di per sé quella terapia intensiva che ogni giorno nelle settimane passate aveva bisogno di 20 persone 20 letti nuovi 30 letti nuovi e che mandava in affanno il sistema sanitario piemontese perché rischiava in quel modo di non trovare la risposta a tutte le esigenze oggi è della seconda volta in in questi giorni arretra di qualche numero ecco questi sono dati importanti ma questi dati importanti non valgono niente se noi domani mattina ricominciamo a fare come ieri come una settimana fa 15 giorni fa un mese fa cioè non servono a niente se noi li vanifichiamo con un comportamento irresponsabile e con una superficialità nel vedere un dato positivo e immediatamente pensare che quel dato positivo corrisponda alla soluzione del problema non è così noi con impegno determinazione e ripeto con grande lucidità scientifica perché ogni decisione assunta in piemonte e validata dal comitato tecnico scientifico che fatto di medici che fatto dei migliori professori e primari di virologia e epidemiologia della della nostra regione queste scelte che noi facciamo ci dicono che stiamo andando nella strada giusta che dobbiamo però continuare a farle in questo modo abbiamo ancora tanti problemi sul tappeto abbiamo ancora tante tematiche che il sistema sanitario piemontese sta affrontando in particolare quello dell'rsa quello delle case di riposo dove l'attenzione della regione è altissima insieme a quella delle prefetture di tutte le province del piemonte proprio ieri dopo due giorni di incontri di approfondimenti abbiamo validato e approvato un protocollo che proprio sia un protocollo che rafforzi ulteriormente l'operatività il supporto che le prefetture la regione le province possono dare per quanto accade per quanto è grande il rischio che c'è all'interno dell'rsa del nostro piemonte allora questo è un tema caldissimo su cui l'attenzione non deve mollare e non viene mollata da parte di nessuna delle istituzioni territoriali ma che ci dice ancora quindi come il tema sia caldo e la situazione non sia assolutamente risolta perché dobbiamo invece continuare a lavorare e a lavorare con la chiarezza di un obiettivo che si può raggiungere ma che necessita evidentemente dello sforzo e dell'impegno da parte di tutti come vi dicevo sono in arrivo medici nuovi stiamo lavorando all'apertura di nuove postazioni per essere sempre pronti all'evenienza e anche al peggio augurandoci però che questi segnali positivi ci stiano davvero portando fuori da questo grave incubo ma e chiudo ci usciamo tutti insieme con la responsabilizzazione e con l'impegno di ciascuno di noi ci usciamo se qualcuno ciascuno di noi sa fare la propria parte e la propria parte e chiudo davvero e stiamo in casa e controlliamoci a vicenda facciamo capire a tutte le persone che ci sono vicine che noi siamo consapevoli tutti insieme che prima finisce prima si riparte ma si finisce in fretta soltanto se ciascuno di noi darà il buon esempio rimanendo chiuso in casa a domani